come si fa a sparare al diavolo chi è kaiser sose esiste veramente kaiser sose non esiste kaiser sose per loro scoprirlo vuol dire sopravvivere la beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste i soliti sospetti l'evento in prima visione su italia 1 venerdì alle 20 e 45